incidente furgone scooter minorenne pesarese soccorso nelle ambulanze arrestati ladri di gioielli derubarono rappresentanti di 30 mila euro ferrovia gli stati generali ribadiscono l'arretramento riqualificazione genica inaugurato il parcheggio di viatasso sanificazione l'innovazione una start up di fermignano una buona serata e un buon venerdì santo di pasqua tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che ci seguite sul canale 80 ben ritrovati a rossini news telegiornale che in questa edizione di venerdì 15 di aprile apriamo con alcune notizie di cronaca a cominciare dalle immagini che ci ha inviato un nostro telespettatore che ringraziamo immagini riprese in zona lavatoio di santa veneranda dopo dove poco dopo le 14 è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e uno scooter condotto da un ragazzo minorenne incidente per causa in via d'accertamento della polizia locale intervenuta che hanno portato lo scooterista a rovinare nella scarpata ai margini della carreggiata le ferite riportate constatate dai sanitari del 118 arrivati sul posto hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza atterrata poco distante sul posto anche i vigili del fuoco per supportare le operazioni di trasferimento nell'ambulanza del ragazzo che in stato di coscienza è stato trasferito all'ospedale torrette di ancona vi ricordiamo il numero whatsapp dedicato alle segnalazioni a rossini tv 370 366 72 10 e ringraziamo anche il telespettatore che proprio a questo numero ci ha inviato le immagini che avete appena visto esattamente un anno fa un rappresentante di gioielli fu rapinato in centro storico a pesero di 30 mila euro di preziosi la polizia dopo lunghe indagini ha arrestato tre professionisti di questi crimini esattamente un anno fa il 15 aprile del 2021 un rappresentante di gioielli umbro fu rapinato nel centro storico di pesero di una borsa contenente articoli preziosi del valore di 30 mila euro dodici mesi dopo la squadra mobile di pesero è giunta alla conclusione di complesse indagini che hanno consentito di rintracciare tre professionisti del furto campani e condannarli agli arresti domiciliari è un reato molto insidioso che va ad incidere profondamente sulla senso sociale di sicurezza si tratta di un furto con strappo che è avvenuto esattamente proprio il 15 aprile 2021 e che ha richiesto notevole notevole tempo e anche molti mesi di lavoro per poter giungere alla sua individuazione ma comunque diciamo i responsabili sono stati assicurati alla giustizia il rappresentante stato pedinato mentre usciva da una gioielleria di via curial è al momento di riporre i gioielli all'interno dell'auto parcheggiata fra piazzale lazzarini e garibaldi è stato derubato della borsa tracolla da un uomo dal volto coperto da un casco integrale che è repentinamente salito su una moto guidata da un complice dileguandosi dicevamo è un tipo di reato che si connota per questa caratteristica appunto di essere itinerante sono trasfertisti e quindi cercano di occultare e in tutti i modi i propri i propri connotati fisici e anche rendersi assolutamente riconoscibili proprio per evitare rendere molto più difficili le indagini nonostante la pochezza di elementi utili al riconoscimento dei ladri compresa una targa della moto risultata clonata le indagini della squadra mobile sono riuscite attraverso le immagini di videosorveglianza presenti su tutto il territorio a monitorare il ripetersi di un particolare modus operandi che utilizzava motociclette e un'autovettura d'appoggio una volta scoperta una macchina noleggiata a napoli guidata da un terzo complice la polizia anche individuato un albergo di pesaro in cui il terzetto ha soggiornato esibendo false carte d'identità e da lì è partita una complessa serie di verifiche incrociate che ha permesso di rintracciare a napoli i tre indagati già pregiudicati per simili reati e assicurarli alla giustizia lutto per la protezione civile che piange la scomparsa di armando rocchetti referente provinciale dei gruppi comunali di volontariato dal 2010 nato ad acqualagna 63 anni fa sposato con due figlie rocchetti era persona estremamente stimata per il suo spirito altruista sempre in prima linea nelle emergenze e cambiamo argomento ci occupiamo ora del tema dell'arretramento della ferrovia che è stato centrale anche ieri sera negli stati generali delle infrastrutture che il sindaco di pesaro matteo ricci ha convocato a palazzo antaldi alla presenza di e sindacati università ingegneri e associazioni di categoria vediamo alcuni dei punti di vista emersi in questo nostro servizio pennarello in mano e cartina d'italia tracciata in lungo e in largo con tutti gli sviluppi possibili che arrecherebbe l'arretramento della ferrovia o la rinuncia ad essa a palazzo montagna antaldi matteo ricci riunisce gli stati generali delle infrastrutture per spiegare l'occasione d'oro di puntare allo sviluppo e scongiurare l'isolamento con abbondanti critiche alla politica regionale in merito che idea si ha di sviluppo se il problema è quello che potrebbero arrivare troppi treni che non sono quelli che hanno detto ma sono cinque in più al giorno quando il problema è che qui non passa più nessuno vi è chiaro che non passa più nessuno che idea di sviluppo si ha per le aziende per il porto d'Ancona il porto d'Ancona per il quale abbiamo ottenuto dei fondi del PNRR per il potenziamento devono entrare e uscire le merci dal porto d'Ancona oppure no? vogliamo continuare ad investire esclusivamente sul trasporto su gomma che intada la via adriatica con i tir? dal punto di vista ambientale è meno inquinato un treno e meno inquinato i tir? io sono davvero scusate se ogni tanto mi scando adesso riabbasso i toni sono sbigottito perché non c'è una logica di sviluppo tema ferrovie ma anche strade e fondi PNRR sviscerati da degli stati generali che hanno visto il coinvolgimento e in gran parte l'assenso alla linea Ricci di sindacati, università di Urbino e associazioni di categoria ma in tutto ciò dobbiamo fare attenzione insomma a non dividerci a livello regionale a cercare di trovare un punto in comune e a provare anche a chiedere qualcosa di più di quello che ci hanno proposto per magari allungare questo arretramento non solo su Pesaro ma magari riuscire a ottenerlo anche per un altro tratto delle marche con magari l'impegno anche poi a proseguire su tutta la regione perché forse questo è il momento in cui noi possiamo veramente ottenere una cosa molto importante molto importante per Pesaro ma soprattutto per tutta la regione anche perché siamo la via di passaggio verso il continente Africa che probabilmente nei prossimi 10-20 anni sarà il fulcro dell'economia perché la Cina è arrivata in Africa, è piena di materie prime c'è tanta mano d'opera per cui noi siamo il collegamento fra l'Europa e l'Africa Penso che siamo in un momento storico in cui forse come non mai ci sono tutte quelle risorse che permetteranno di costruire non soltanto la città di Pesaro ma anche tutto un territorio per i nostri nipoti perché per i nostri figli siamo già in ritardo, ci ha già pensato qualcun altro possiamo prendere quelle decisioni strategiche che ovviamente aiuteranno tutti a vivere meglio e assolutamente chi ha deciso di intraprendere perché senza le infrastrutture un territorio come il nostro che ormai da tanti anni vive un isolamento abbastanza evidente è difficile e sarà molto difficile fare sviluppo è un progetto sul quale siamo molto favorevoli a condizione che ci sia un quadro d'insieme del sistema infrastrutturale della nostra provincia almeno crediamo poco nell'arretramento solo per quanto riguarda la città di Pesaro che non risolverebbe i problemi della viabilità e della infrastruttura della nostra provincia e probabilmente creerebbe altri problemi perché deviare da dopo Gradara per fare un percorso alternativo all'attuare ferrovia e poi rientrare a forse sei ore facendo uno sconquasso da punto di vista ambientale con stazione sopraelevata e riconfermando su Fano, su Marotta, su Mondolfo, su Senegaglia gli stessi problemi ci pare inutile nel senso che fosse una infrastruttura che serve alla popolazione i cittadini pendolari e saremo anche d'accordo è invece un'infrastruttura che serve il trasporto merci io credo che si debba cominciare da Pesaro e quindi non abbandonare il miliardo e duecento milioni circa che sono disponibili o comunque i cinque miliardi che sono stati previsti nel bilancio dello Stato ma prevederlo e immaginarlo come l'inizio di un percorso che almeno per tutta la provincia preveda l'arretramento ferroviario si è completato uno dei più importanti lotti di intervento sul torrente genico per la prevenzione del rischio idraulico portato avanti dalla Regione Marche in un progetto complessivo da due milioni e duecento mila euro l'intervento interessato riguarda il tratto di Loreto che ha visto dopo più di un anno riaprire, ampliare e riqualificare l'area parcheggio in via Torquato Tasso Taglio del nastro al parcheggio riqualificato effettuato oggi alla presenza dell'assessore regionale Aguzzi, dei consiglieri Baiocchi e di Biancani che avviò la fase dei lavori così come del sindaco Ricci accompagnato dall'assessore Pozzi Gli interventi hanno previsto la rimozione degli ostacoli al regolare deflusso delle piene uniti al consolidamento e alla riqualificazione dei muri perimetrali in cemento armato del Genica Il progetto ha previsto la demolizione del parcheggio esistente e la ricostruzione di un nuovo spazio dedicato alla sosta Avanza la primavera e anche Marche Multiservizi si prepara a nuove sfide per la bella stagione dalla prevenzione dei rischi idrici alla pulizia e al decoro anche in ottica di accoglienza turistica Come ci spiega l'amministratore delegato dell'azienda Multiservizi Mauro Tibironi Direi che il tema idrico è un tema non solo pressante ma fondamentale per la vita e la competitività di un territorio Detto questo per il momento siamo ancora nella fase buona Sicuramente l'estate ci preoccupa La competenza, la professionalità comunque di tutti i tecnici e operativi di Marche Multiservizi hanno sempre dimostrato di sapersela cavare bene Speriamo che un po' di pioggia arrivi perché non tanto perché possa rimpinguare le falde ma sicuramente aiuta ai minori consumi e su questo vorrei anche dire che noi stiamo lavorando molto sulla riduzione delle perdite Sicuramente anche i cittadini e le imprese possono contribuire ad un utilizzo ottimale di questa risorsa che comunque è sempre più limitata e finita Sicuramente però dobbiamo fare anche delle scelte strategiche importanti Diciamo che la priorità sicuramente è la pulizia degli invasi lungo il metauro che ci consenterebbe di avere una maggiore risorsa disponibile da potabilizzare Sono tutte leve che dobbiamo utilizzare e in questo campo ovviamente speriamo che anche i fondi del PNRR ci aiutino per avere, stiamo già partecipando a dei bandi, al primo bando che è uscito speriamo di poter recuperare delle risorse che ci aiutino a bonificare le reti che sono comunque già obsolete e fare altri interventi in modo tale che questo territorio sia sempre più in sicurezza e il fatto dell'approvvigionamento e della distribuzione idrica non sia legato solo all'andamento delle piogge ma sia un fatto strutturale e definitivo in termini positivi quindi il nostro impegno è totale perché ci rendiamo conto e sappiamo che senza acqua non c'è vita Uscendo dal tema acqua, che cosa il mese di aprile e il mese di maggio porta nell'agenda di Marche Multiservizi come scaletta di priorità? Sicuramente siamo in un territorio che ha una vocazione turistica quindi dobbiamo anche noi contribuire a far sì che il turismo possa avere tutti i migliori servizi possibili per essere ancora più accattivanti e avere un appeal turistico importante quindi da questo punto di vista abbiamo già, come già anche scritto, abbiamo anticipato tutta una serie di attività sulla spiagge con a fianco dei bagnini per rendere ancora più rapido il nostro intervento e rendere le spiagge durante le feste di Pasqua già attrattive quindi uno dei temi sui quali facciamo veramente fatica a bucare lo schermo, come si direbbe in gergo è il tema dell'abbandono dei rifiuti non riusciamo a comprendere il fatto che abbiamo servizi a chiamata abbiamo 17 centri di raccolta sparsi sul territorio nella città di Pesaro abbiamo credo uno dei centri di raccolta più belli non solo della regione ma forse d'Italia nonostante questo l'abbandono di ingombranti lungo la strada nelle piazze vicino alle isole ecologiche e addirittura sui greppi è una costante non riusciamo a capirlo perché tra l'altro la raccolta degli ingombranti è anche entro certi limiti gratuita quindi non si capisce il perché e questo purtroppo comporta costi aggiuntivi che poi alla fine ricadono su tutta la collettività ma anche un brutto segnale, un decoro sbagliato direi che invece di avere una città che è accogliente e pulita a volte abbiamo delle manifestazioni di inciviltà che rovinano tutto quello che viene fatto durante la giornata speriamo che a forza di battere anche questo aspetto negativo venga in un certo qual modo quantomeno mitigato se non annullato del tutto direi che colgo l'occasione per fare formulare gli auguri di buona Pasqua a tutti i vostri telespettatori, a loro famiglie e ovviamente anche a TV Rossini Cambiamo argomento e parliamo della banca di Pesaro che appena ha approvato il suo bilancio 2021 continuando il trend utile di esercizio come ci spiega il suo direttore Paolo Benedetti Siamo in direttore d'arrivo e comunque già ripartiti in maniera forte per il 2022 nel prossimo 26 aprile andremo a fare invece l'approvazione del bilancio 2021 che ha confermato gli ottimi risultati già conseguiti nel corso degli ultimi anni è l'ultimo leggermente più basso ma dovuto ad una politica di accantonamento prudenziale fatta sui crediti, veramente prudenziale ma a vista le situazioni che stiamo vivendo prima la pandemia poi altri fatti internazionali di grossa portata ci hanno portato a fare degli accantonamenti sul credito poi se non si realizzano come tutti speriamo che sia avremo delle riprese in futuro comunque confermato buoni risultati soprattutto una grande patrimonializzazione da parte della banca di Pesaro la nostra cosa importante è a dare continuità ai risultati continuità soprattutto sempre ad una sana prudente gestione nel rispetto della mission che una banca di credito cooperativa deve avere è talmente una banca moderna, sempre poi le tecnologie a portata di mano come si dice però soprattutto una banca che fa dei valori storici con la continuità nei prossimi sicuramente tantissimi anni dappina avanti Continuiamo ad occuparci anche della BIT la Borsa Internazionale del Turismo di Milano che ha visto le marche protagoniste nei giorni scorsi alla Kermes milanese alla presenza anche delle telecamere di Rossini TV a tal proposito questa sera alle 21.20 trasmetteremo lo speciale dedicato alla presenza di Confcommercio alla BIT e ora vi proponiamo invece l'intervista al presidente dell'associazione I Borghi Più Belli d'Italia realizzata dalla nostra Emanuela Rossi Le marche sicuramente, essendo Umbro, chiaramente li conosco anche abbastanza bene sono sicuramente borghi straordinari anche la presenza qui alla BIT è una presenza ben organizzata quindi avendo creato l'associazione regionale hanno dimostrato di essere molto uniti di voler lavorare insieme di produrre una immagine delle marche forse meno conosciuta di quella tradizionale però molto importante perché riguarda soprattutto le aree interne questi stupendi borghi dove ci sono delle comunità che meritano di essere salvate devono essere aiutate soprattutto perché i giovani possano rimanere all'interno di questi centri perché sono il futuro e il futuro è la tradizione, la cultura che qualcuno deve salvaguardarla e chi meglio dei giovani E come si può fare per comunicare la bellezza di questi borghi? perché sono piccoli borghi magari un po' collocati in luoghi un po' impervi come si può fare per comunicarli al mondo? Chiaramente noi abbiamo un sistema di comunicazione molto strutturato, molto forte che va attraverso il web attraverso la carta stampata quindi la rivista, la guida tutti i social siamo presenti su tutti i social in maniera massiccia e in più abbiamo accordi anche con dei tour operator a livello internazionale che permettono di realizzare intanto il prodotto e poi venderlo anche in tutto il mondo La start-up Viraschutz di Fermignano ha presentato una soluzione innovativa per la disinfezione e sanificazione degli ambienti grazie a questa importante novità i luoghi di lavoro risultano assolutamente sicuri grazie ad un prodotto antibatterico dall'efficacia vicina al 100% quando si dice anticipare i tempi è infatti nel 2019 che la start-up di Fermignano Viraschutz ha cominciato a lavorare per prevenire le malattie dovute ad attacchi batterici poco dopo è arrivato il covid rendendo questo tipo di innovazione ancora più urgente nel 2022 l'approdo sul mercato di una soluzione capace di contrastare quasi il 100% dell'attività batterica garantendo ambienti sicuri anche fino a tre mesi Questo progetto che vi presentiamo oggi nasce dalla spinta forte da parte di Viraschutz e si sviluppa in seguito a due anni di intensa ricerca svolta nei laboratori di tecnologia farmaceutica dell'Università di Camerino e nella Recusol che è una spin-off della stessa università Dunque da questi due anni di ricerca è emerso un importante prodotto che è stato poi brevettato e che consiste nell'applicazione conseguenziale su una superficie di tre prodotti antibatterici precedentemente conosciuti che però insieme danno una sinergia di attività mai vista in precedenza quindi arriviamo ad un abbattimento della carica superficiale dei microbi in superficie di circa il 99,99% quindi livelli che sono esponenzialmente più elevati delle singole attività antimicrobiche e delle singole sostanze quindi l'innovatività della scoperta sta nel fatto che abbiamo esplorato un potenziale delle singole molecole che in sinergia danno un risultato mai visto in precedenza Un'altra importante caratteristica dell'invenzione è il fatto che sia di lungo termine quindi diciamo questa combinazione di molecole non è solo efficace nel disinfettare le superfici ma anche nel prevenire la ricontaminazione delle superfici per un periodo studiato di almeno tre mesi quindi ci possiamo tra virgolette dimenticare della disinfezione costante delle superfici in quanto esse sono protette dalla ricontaminazione microbica Grazie anche al metodo di applicazione che è fatto per mezzo di erogatori elettrostatici professionali riusciamo a ridurre gli sprechi e a ridurre del 75% il prodotto erogato rispetto ad altri erogatori quindi possiamo avere una protezione di un altro livello con costi di consumo e di prodotti appunto molto ridotti Meno prodotti meno dispersione di sostanze nocive e la natura ringrazia ma a ringraziare sono anche le aziende perché potranno contare su ambienti di lavoro più salubri spendendo meno che per una sanificazione giornaliera inoltre per il personale sarà più difficile ammalarsi e di conseguenza assentarsi L'idea era proprio questa quella in qualche modo di abbattere l'impatto economico ma anche organizzativo delle assenze negli ambienti di lavoro dovute alle malattie stagionali la classica influenza stagionale questo è stato l'incipito da cui siamo partiti poi evidentemente in fase di ricerca di sviluppo siamo arrivati ben oltre ed oggi questo tipo di soluzione può essere applicata in tutti gli ambienti dove noi viviamo per una protezione di una prevenzione continua che dura tre mesi non ci sono studi in Italia su quello che è l'impatto economico delle assenze dal lavoro per malattia negli altri paesi sì è un impatto molto importante ovviamente tutto questo è stato poi reso esponenziale dalla pandemia ed oggi purtroppo ne conosciamo bene i costi tutto questo è stato possibile anche grazie a un'iniziativa della regione Marche che sostiene i primi passi delle start-up innovative ed è così che Vera Schutz potrà estendere i suoi brevetti proseguire l'attività di ricerca e sviluppo che già vanta una forte componente femminile ma anche creare 14 nuovi posti di lavoro è una legge che fa un quadro normativo regionale sulle imprese innovative che sono quelle iscritte all'albero speciale della Camera di Commercio che introducono innovazioni invenzioni o comunque che innovano i processi produttivi o i prodotti questo fatto secondo noi è fondamentale per due ragioni il primo perché sollecita l'impresa a fare ricerca e sviluppo il secondo perché introduce un tema di qualificazione del lavoro soprattutto sulle fasce alte della formazione della alta specialità post laurea e post diploma e questo poi introduce il secondo tema di una industria di un'impresa piccola e media che ha bisogno di essere innovata di vedere un trasferimento tecnologico importante quindi ritengo che questo sia davvero un tema molto significativo inoltre vorrei far sapere che abbiamo fatto un bando per 4 milioni di euro per finanziare a seguito di quella legge tutte le imprese innovative che hanno presentato un progetto ho visto tanti progetti nei settori più disparati che introducono grandi novità e grandi invenzioni dentro lo sistema produttivo e concludiamo con lo sport e con le tante partite che si stanno affollando in questi giorni prepasquali ieri sera la Vispesoro ha perso 1-0 la penultima giornata di campionato in casa del Limolese brutta gara della Vis mai pericolosa che ha consentito agli Emiliano Romagnoli di conquistare i play-out scongiurando la retrocessione diretta Vis che ora galleggia fra nono e decimo posto e dovrà giocarsi l'accesso ai play-off nell'ultima giornata del 23 aprile in casa con l'Ancona Matelica importantissima invece la vittoria del Fano che al Mancini batte 1-0 la forte Trastevere grazie ad un'altra rete del difensore Vavassori Alma che ora può sperare nella salvezza diretta questa sera alle 20 torna invece in campo l'Ital Service al Palafiera contro Pescara mentre domani la terza partita in sei giorni per la VL che dopo il grande successo di mercoledì sulla Fortitudo Bologna ospiterà la forte Virtus Segafredo Bologna alle 20 ancora alla Vitri Frigo Arena si conclude qui il nostro telegiornale ma l'informazione su Rossini TV continua alle 20 con l'appuntamento del venerdì con il Vallefoglie Pian del Bruscolo Magazine condotto da Edoardo Razzi settimanale che va in onda tutti i venerdì alle 20 con prima replica alle 23.15 ve lo abbiamo anticipato nelle TG la nostra prima serata di questo venerdì alle 21.20 è dedicata alla presenza di Rossini TV alla Bit di Milano e in particolare alla Confcommercio Marche Nord durante la Kermes milanese 2022 e poi vi diamo appuntamento anche a Buongiorno Rossini del Sabato il nostro spazio con la rassegna stampa dei quotidiani locali in diretta come sempre alle 7.20 e che per l'occasione sarà condotta dal nostro Antonio Astuti ed è davvero tutto per questa edizione del telegiornale ora ci sono le previsioni del tempo e a me non resta altro che augurarvi una buona serata un buon weekend e anche una buona Pasqua in compagnia dei programmi di Rossini TV di Rossini TV